Un mese a ritiro estivo e in casa Catania si comincia a lavorare con maggiore intensità per cercare di completare la rosa al più presto. Molto passerà sempre dalle conferme dell'organico a disposizione di Maurizio Pellegrino e per tal proposito ci ha pensato Francesco Lodi a ribadire per l'ennesima volta il proprio desiderio di restare in maglia rossa azzurra. Nelle ultime settimane il numero 17 ne è stato più volte accostato al Palermo e qualcuno credeva che stesse cedendo ma ieri il centrocampista napoletano ha voluto sottolineare per l'ennesima volta la propria voglia di non spostarsi e di contribuire al ritorno in Serie A. La palla quindi passa adesso a Pablo Cosentino che dovrà decidere se premiare il desiderio di Lodi o virare altrove anche se molto passerà dalla conferma del prestito di Rinaudo per il quale si attendono sempre notizie dallo Sporting Lisbona. Le prossime ore potrebbero essere decisive anche per ciò che riguarda Pio Vaccari poiché l'amministratore delegato rossa-azzurro dovrebbe muovere l'assalto già nella giornata di domani. Intanto il Catania ha ufficializzato l'acquisto ormai certo da tempo del giovane polacco Michael Trapek che dunque si farà le ossa nel campionato cadetto. Tutta da capire invece la situazione di Bellusci, Frison e Spolli che malgrado siano invitati a restare continuano a guardarsi intorno e presto saranno chiamati a dare una risposta definitiva sul proprio futuro.